Pacchetto di esperienze Mentre ero immerso nella vasca da bagno, io non sopporto la doccia, ebbi una rivelazione. L'ebbi ascoltando la mia compagna Lara, che spiegava alla nostra bambina di dieci anni certi fatti della vita. Era la conversazione più cinica che avessi mai udito. La mia compagna e nostra figlia non sapevano che ero nella vasca da bagno. Erano appena rientrate da un giro per negozi cariche di nuovi vestiti. Mentre Lara, cantarellando soddisfatta, riponeva il bottino in un armadio, nostra figlia le chiese «Mamma, papà è davvero povero come dice sempre?» «No, si capisce. Vuole soltanto farci credere che deve lavorare molto per renderci felici. Ma non lavora tanto, non tanto da ammazzarsi. A questo punto stavo per uscire dalla vasca per reagire, ma Lara continuò prima che uscissi dalla vasca. «È come un gioco, cara. Se fossi un maschio lo faresti pure tu da grande. Tutti gli uomini sono uguali. Bisogna lusingarli. Sono felici di credersi forti, intelligenti, lavoratori infaticabili e di pensare che non possiamo fare a meno di loro. Non hai mai notato che quando c'è il babbo, ripeto che non riesco ad aprire una valigia senza rompermi le unghie?» «Sì. Invece le apro benissimo quando non c'è. Lo faccio perché agli uomini non piacciono le donne che sanno far da sé e per questo lo premio e gli faccio aprire le valigie. Ricordatelo quando avrai un uomo. Gli uomini preferiscono donne incapaci e un po' sciocche, così possono sentirsi superiori. Quel che devi imparare fin d'ora è d'essere incapace al momento giusto e non far mai capire a un uomo che ne sai più di lui non te lo perdonerebbe. Nostra figlia taceva e io aspettavo immobile nell'acqua come un ippopotamo. Volevo sentire tutto, finzi di essere addormentato nella vasca da bagno quando mi ci trovarono, per non fargli capire che avevo ascoltato come la madre aveva istruito nostra figlia contro di me. Commento Ogni femminismo e ogni maschilismo, visto dalla legge d'evoluzione, è illusorio. Infatti, nel corso delle vite, ognuno è tante volte femmina e tante volte maschio a seconda del pacchetto di esperienze di cui ha bisogno nella nuova incarnazione. No? 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 Grazie a tutti